65, cioè 65esima puntata dell'imprenditore e gli altri e oggi devo dire giornata particolare, vogliamo parlare di Covid anche oggi, perché un dato che mi lascia perplesso, ma che non vorrei nemmeno leggere onestamente, è che ieri c'erano 451 infettati, leggere oggi 813 infettati in tutta Italia, cioè esattamente il doppio di ieri fa un po' male, però facciamo finta che oggi sia un caso particolare e speriamo che domani questi numeri ricominciano a scendere, certamente le regioni maggiormente in difficoltà sono purtroppo sempre la Lombardia e il Piemonte che da sole superano le 500 unità, insomma una situazione un po' così, diciamo che oggi parliamo di altro, parliamo di calcio oggi e prima di tutto facciamo entrare in onda il nostro magnifico rettore e cioè il mio co-co-co-conduttore, il professor Fabio Fortuna, rettore dell'Università Niccolò Cusano, buonasera rettore, certo lei con i capelli fatti è proprio un'altra persona, un altro soggetto, no no veramente la voglio dire, poi sta gravata così luminosa, insomma sembra quasi un attore di Hollywood lei così. Troppo buono. Va bene. Le preannuncio che vorrei chiudere io con una battuta stasera. Allora stasera le prometto che lei chiuderà con una battuta, me lo devo segnare, però detto questo facciamo entrare immediatamente il nostro primo ospite, ospite importantissimo e cioè Mauro Balata, presidente della Lega Nazionale Professionisti B del Calcio Italiano, anche avvocato, stimatissimo avvocato. Buonasera avvocato. Buonasera presidente Bandecchi, buonasera magnifico rettore, grazie per l'importantissimo ma io mi ritengo un modesto uomo che sta cercando di contribuire in questo momento di crisi anche del calcio e a portare delle idee per risolvere dei problemi. Su questo non c'è dubbio, lei sicuramente fa il suo lavoro in maniera, devo dire, importante, l'ha sempre fatto in maniera precisa e mirata, però dire che lei non è importante sarebbe quasi una banalità perché fino a prova contraria lei è il presidente della Lega B, la Lega B in Italia è la seconda rega dopo la Serie A, quindi io direi che c'è un'importanza importante. Oltretutto mi permetta di dire e di sottolineare ancora una volta forse veramente il calcio degli italiani, perché in Serie B si trovano tantissimi calciatori italiani, è un calcio diverso, tutte squadre, insomma diciamo che è un calcio che mi dà più il senso di sapere che siamo noi italiani che stiamo giocando al calcio, ecco. 75% di italiani. 75% di italiani, questo è un risultato importantissimo, credo che sia, scusi, tanto perché la Serie A quanti italiani ha? Ma non ho idea, ma non credo che ne abbia il 75%. No, io credo che se abbiamo fortuna arriva al 50%, insomma, forse. Abbiamo fatto le mie percentuali, non quelle degli altri, quindi le conosco bene, diciamo 28% degli under 21, insomma abbiamo, da questo punto di vista credo che diamo un grande contributo al campionato nazionale, perché oggi si parla tanto di campionati nazionali italiani, non italiani, ecco noi ci teniamo molto all'Italia e al nostro campionato nazionale, sotto ogni punto di vista, devo dire, anche nel rapporto, mi dispiace che l'ho interrotta, ma diciamo nel rapporto con le città, con i territori, con la gente, con tutte le cose che facciamo al di là dell'esclusivo aspetto economico che altri curano di più. Senta, a parte l'ultima notizia forse più importante, che il Comitato Tecnico Scientifico pare che abbia detto che si potranno riniziare gli allenamenti verso fine mese, quelli di gruppo, questo vale, immagino, per tutto il calcio in generale. E poi un'altra cosa importante è che si potrà praticamente pensare, eventualmente ci fossero delle partite, di mandare in quarantena solo coloro che sono malati, se ci fossero dei malati e non tutte le squadre. Questa mi sembra una grande apertura da parte del Comitato Tecnico Scientifico, o sbaglio? Io non ho ancora i dati precisi, so che si è arrivati a fare dei passi in avanti molto importanti, non ho ancora letto le nuove linee guida, penso che domani, che abbiamo Consiglio federale, avremo sicuramente qualche delucidazione in più. Vede, io credo che tutti stiano facendo un grande lavoro in questo momento, lo dico col massimo rispetto anche nei confronti, confronti di quei medici, di quegli scienziati, di quegli esperti che si stanno adoperando sia coadiuvando il governo con il Comitato Tecnico Scientifico, sia quelli che stanno lavorando con la FIGC, i nostri e tutte le persone che sono in campo. Si tratta di trovare un equilibrio tra quelle che sono le esigenze fondamentali di tutela della salute e quelle che sono anche le esigenze di un settore importante, perché qui stiamo parlando di calcio di livello professionistico anche dell'economia del Paese. Nel momento in cui si riesce a trovare questo equilibrio, io credo che il calcio potrà ripartire e credo che sarà anche una buona cosa per il nostro Paese. Allora, le devo fare obbligatoriamente a questo punto due domande, perché lei ha introdotto il Consiglio federale di domani. Il Consiglio federale di domani diciamo che tutti stiamo aspettando un po' come l'uccellino che aspetta il cibo a bocca aperta dentro al proprio nido, perché domani sarà una riunione importante, dato che potremmo anche aspettarci, non lo so, una decisione sull'eventuale ripresa del campionato. Lei che cosa pensa a proposito di questo? O meglio, qual è la sua idea? Così lasciamo perdere quello che pensano gli altri. Cosa penserà il Consiglio federale? Parliamo di campionati o di campionato, Presidente? Io parlo di campionati, A, B e C in particolare. Lei sa che sulla Serie A non ho altro da aggiungere, leggo quello che leggete anche voi. Noi abbiamo fino a ieri l'altro, ancora una volta in Assemblea, deliberato che vogliamo fare di tutto per cercare di concludere in maniera regolare la nostra stagione sportiva. Ovviamente anche noi abbiamo, ma non da ieri, insomma veramente dal 22 di aprile, fatto delle osservazioni rispetto a quelli che erano i problemi dei protocolli, senza assillare nessuno, senza stressare nessuno, perché ripeto, poi le competenze medico-scientifiche non appartengono né a me, né alla Lega, né alla società di calcio. Abbiamo cercato di dare un contributo che fosse un contributo anche sereno, ma anche di natura pratica. Io personalmente ho sempre ritenuto che i campionati si vincano o si perdono sul campo, Presidente. Quindi applicare il principio del merito sportivo significa anche cercare di finire regolarmente una stagione che peraltro si è interrotta in un momento dove ancora mancano diversi punti e diverse giornate dalla fine di tutti i campionati. Quindi anche questo è un dato che va considerato. Ora, speriamo, ripeto, di riuscirci. Domani si dovrebbe decidere una cosa fondamentale, secondo me, che è la data ultima di fine della stagione sportiva e da lì poi si possono fare anche delle considerazioni, delle riflessioni più pratiche, più profonde per capire se riusciremo a farcela o no. Io sono molto ottimista e devo dire che questo passaggio di oggi è piuttosto importante, quasi fondamentale, direi. Balata, ci sono una serie di chiacchiere in giro, i giornalisti ne inventano una dopo l'altra, voglio dire, ognuno tira fuori la propria categoria, io senza, voglio dire, sapere né leggere né scrivere. Lei ha rilasciato un'intervista pochi giorni fa, forse ieri, no, o qualche giorno prima, dove ho letto che lei diceva che è un momento particolare, bisogna guardare al campionato di calcio in generale, bisogna garantirne l'esistenza, sono disponibili a qualunque tipo di ragionamento. Che cosa intendeva dire in questo caso? Io ho parlato, lo dico non dall'altro giorno, lo dico da tempo, dell'esigenza di procedere con delle riforme che consentano a questo nostro calcio, a questo nostro, come dire, settore così importante, così amato e così, come dire, importante anche per il valore che ha e per quello che rappresenta e come rappresenta l'Italia, diciamo, anche all'estero, perché noi siamo il quarto sistema calcistico mondiale tuttora, insomma. Io credo che questo calcio però abbia bisogno di riforme, lo si dice da tempo, da anni, da prima ancora che io arrivassi a fare il presidente della Lega di Serie B, di riforme che gli consentano di proiettarsi in una dimensione di innovazione più europea, più proiettata verso il futuro e probabilmente ci sono delle cose che in un momento particolare come questo, di profonda crisi, e che il calcio sta subendo in maniera forse ancora più profonda rispetto ad altri settori, no? Perché essendo i proprietari delle società di calcio tutti industriali o persone comunque impegnatissime nei vari settori economici, è chiaro che hanno meno attenzione, tra virgolette, anche meno disponibilità in questo momento per investire. Io infatti le dico, sono convinto che questa crisi che noi stiamo attraversando e che, ripeto, investe e riguarda anche il mondo del calcio, determinerà molti cambiamenti di cui forse oggi ancora non ci rendiamo conto in maniera così completa. Sì, sono convinto anch'io che le vere differenze o le vere difficoltà arriveranno da settembre a dicembre, secondo me, a livello economico. Purtroppo saranno quattro mesi molto duri, Rettore, credo di non sbagliare se dico che da settembre a dicembre ci sarà qualcosa di particolare. Lei che dice a livello economico? Dipenderà molto dai prossimi 15-30 giorni e dal virus, perché se il virus continua a attenuarsi e c'è possibilità, compatibilmente con lo scenario che ci circonda e con i mille miliardi che l'Europa dovrebbe stanziare, che quelli sono fondamentali per l'Italia, c'è possibilità di cominciare a riprendersi e allora vedo un secondo semestre migliore di ripresa. In caso contrario la vedo tragica. Però per il calcio e lo sport il discorso poi è specifico e quindi credo che sia una stagione difficile da settembre, a prescindere da quello che succederà. Vabbè, io ho sentito parlare spesso di denaro che deve arrivare anche nel calcio, ma non l'ho vista arrivare nemmeno ai miei amici imprenditori, quindi ho un po' di difficoltà nel comprendere. Anzi, parlavo oggi con un amico che ha ben 50 persone in cassa integrazione e mi stava dicendo che ancora la cassa integrazione di marzo lui non l'ha avuta, non l'ha presa. insomma. Col binocolo l'hanno vista. Lei fa presto a parlare, ma qui ci sono 50 famiglie che non sanno come andare ad arrivare in fondo al mese. Sono molte di più, centinaia di migliaia. Sì, sì, va bene, intanto io parlavo di quelli che ho visto direttamente. Ma detto questo Balata, allora lei ha introdotto un discorso ancora più interessante. Mi scusi, io voglio essere delicato, ma devo farle queste domande. Qual è, secondo lei, o almeno, quale soluzione potrebbe auspicare per vedere un cambio? Cioè, in sintesi, tanti giornalisti parlano di un cambio totale della Serie B. Io, personalmente, ritengo che se la Serie B dovesse cambiare, forse deve diventare a 18 anziché a 20. Lo voglio dire io, perché almeno ci sono evidentemente più denari per chi gioca. Beh, però, se si fa questo ragionamento, secondo me, si semplifica un po' troppo, Presidente. Mi consenta, perché è vero che il problema della sostenibilità economica, di un sistema economico calcistico che sia virtuoso, dove ci siano però anche delle regole molto rigide per accedervi. È importante. Però bisogna anche trovare, come dire, cercare di trovare, di individuare degli strumenti e delle progettualità per far sì che il calcio possa anche crescere, sia dal punto di vista, come dire, della credibilità, della sostenibilità, ma anche dal punto di vista del valore economico. E forse su questo noi negli ultimi anni abbiamo fatto poco. Ci sono dei modelli molto importanti e che hanno prodotto dei risultati tangibili, significativi, a cui ci si può ispirare. Io cito sempre, per esempio, il modello tedesco, dove a seguito di una crisi tecnica di competitività, ma anche economica, sono state fatte delle riforme molto importanti. E queste riforme, vede, che passano anche attraverso, secondo me… Allora, è un ragionamento complesso e bisogna farlo a 360 gradi, perché non è solo l'aspetto economico, è l'aspetto anche, ripeto, dell'accesso al calcio, di rigidi criteri di concessione delle cosiddette licenze nazionali, quindi di soggetti che entrano nel mondo del calcio, di requisiti oggettivi e soggettivi. Però c'è anche un problema, che forse va un attimino rivisitato, di distribuzione di risorse, che vede non deve trasformarsi in una guerra tra leghe o tra soggetti, secondo me, perché questo è l'errore che molti commentatori fanno quando io… Io ne ho parlato diverse volte, lo sapete, per ragioni legate anche al famoso accordo di separazione tra la lega di A e tra la lega di B. Io dico che la distribuzione delle risorse e anche la riforma dei campionati attraverso meccanismi intelligenti deve consentire al sistema calcistico italiano di crescere, sia in termini di competitività, sia in termini anche, ed è una conseguenza, di valore economico. Allora, su questo bisognerebbe, secondo me, con urgenza aprire un tavolo, poi vediamo quali sono i progetti, portiamo tutti le nostre idee e vediamo quali sono le migliori. Io credo che tra persone intelligenti, quando si producono delle idee e queste idee sono supportate anche da argomentazioni scientifiche, oggettive, poi alla fine le soluzioni si individuano. Salata, io oggi mi hanno domandato, in quanto presidente anche di una squadra di calcio, quindi della Ternana, come stanno i nostri ascoltatori, oggi mi hanno chiesto se io preferirei una Serie B, e qui adesso mi farò odiare da tutti i miei tifosi, perché mi hanno chiesto se io preferirei una Serie B a 40 squadre di due gironi o una Serie C d'Elite a 22 squadre. Io ho risposto che preferirei una Serie A a 20, una Serie B a 20, una Serie C a 22 squadre, e poi a limite una rega semiprofessionistica. Questo secondo me sarebbe un miglioramento del mondo del calcio. Lei come la vede questa idea? Guardi, io non voglio anticipare nulla, perché secondo me è un ragionamento che va fatto in sede federale. Io credo che una riduzione della platea, delle società che appartengono al mondo professionistico, è qualcosa che va fatto e probabilmente andava fatto anche da più tempo, perché oggi le dimensioni anche di questa crisi sarebbero forse un pochino apputite anche da un sistema capace magari di distribuire in maniera diversa determinate risorse. Però, le ripeto, vanno fatte una serie di aggiustamenti e di riflessioni. Io sono abbastanza radicale poi in quelle che sono le mie idee, per esempio sui sistemi di controllo, ripeto, sull'accesso al calcio professionistico, perché poi laddove si distribuiscono risorse importanti bisogna distribuirle anche a chi lo merita e a chi ha i requisiti, ripeto. Ogni tanto io mi domando i controlli che vengano fatti potrebbero essere fatti un po' meglio, così vedremo meno squadre che falliscano con 70 milioni, 50 milioni di debito, insomma. Vede, su questo devo dire il Presidente Gravina ha prodotto degli sforzi, delle riflessioni e c'è stata anche una riforma. Io la penso come lei, però anch'io il sistema controlli lo riformerei in maniera ancora più radicale, lo renderei ancora più indipendente e con, come dire, delle capacità di intervento molto molto rigide e rigorose. Sì, ma anche perché in certi casi diventano delle situazioni poco spiegabili, perché poi si vede, ad un certo punto si tira una somma, si scopre che una squadra sta messa male, ma non per 2 milioni, 3 milioni, 4, 5, 20, 30, 70 milioni sono capitati. Allora non sono episodi di un anno, sappiamo già che se uno ha un debito per 70 milioni, minimo parliamo di episodi che vanno avanti da 10-15 anni, perché non credo che in un campionato possa aver fatto debiti per 70 milioni o in Serie B o in Serie C. In Serie A forse questo potrebbe anche essere possibile, ma in Serie B lo vedo difficile, come in Serie C, no? Che dici lei, Balata? No, che sono società economiche come le altre, come quelle che operano nell'economia normale, quindi dovrebbero essere assoggettate e credo siano assoggettate alle stesse regole. Poi ci sono i fenomeni come quello che lei citava e che sono quasi inspiegabili. Eh bravo, credo anch'io, perché un'azienda normale non può vivere con 50 milioni di debito, specialmente se ha un reddito limitatissimo, voglio dire, ma nel mondo del calcio poi se il reddito addirittura è dovuto all'imprenditore che inietta denaro spesso ogni anno, insomma. Va bene, comunque domani quindi sarà una riunione, perché mi hanno detto che lei deve andare via a 50, sbaglio, 55? Sì, diciamo 55. 55. Dico quindi domani sarà una riunione importante, Balata ne voglio approfittare, perché lei è qualche giorno che non rilascia interviste e questa è la prima intervista che viene fuori, allora voglio approfittarne per avere… Ci tenevo a farla da lei, Presidente. No, dico, non voglio avere il grande scoop, ma almeno un piccolo scoop, domani quindi ci sarà qualcosa, qualche notizia particolare da questo Consiglio federale? Ma guardi, io credo che domani parleremo di prosecuzione delle competizioni, io non so lì come la pensa, io penso che… Io lo dico subito, guardi, a me basta che mi facciano fare i miei play-off, poi sto a posto, voglio dire. Anzi, sarò più chiaro, io ho detto anche oggi, 27 sono le squadre che devono partecipare a play-off, già mi sono meravigliato che solo 12 di 27 abbiano detto facciamo i play-off, tutti gli altri hanno detto stiamo a casa, stiamo bene così, già mi fa meraviglia, però io dico invitate 27 squadre a fare i play-off, chi vuole venire viene, chi non vuole venire sta a casa, punto, non vedo perché non dovrei fare i play-off che sono un diritto, li faremo a luglio al limite, però li faremo. Se ci sono le condizioni per farlo… Se ci sono le condizioni per farlo, certo, Balata, se anziché leggere 800 infettati, domani andiamo a leggere 1.600, allora non ci saranno le condizioni per farlo, sono il primo che arsa le mani e dice, vabbè, finito il campionato, ma se ci saranno, come io mi auguro, perché se no non è finito sul campionato di calcio, sono finiti i ristoranti, i bar, è finito tutto, insomma, diciamo che stiamo messi troppo male, quindi pensando positivo, io spero che invece nella serie C faremo i play-off, poi noi li perderemo e vedremo cosa andremo a fare, insomma, però intanto non bisogna farli. Credo Presidente che questo determinerebbe anche delle, come dire, eliminerebbe tutta una serie di problematiche legate a contestazioni, a eventuali contenziosi, a lamentele, che sono anche legittime in alcuni casi, ripeto, i campionati si sono interrotti in una fase dove non si era arrivati quasi al termine della stagione. Balata, le voglio dire un'altra cosa, io nemmeno capisco come sia stato possibile nella Lega DC sentir dire che non ci sono retrocessioni e che invece salgano gli altri nove dalla serie di, quindi io sono rimasto abbastanza sorpreso, il campionato di Cipro si manna a 69, così ne falliscono 49 anziché 40. Io guardi, non voglio fare commenti perché non mi piace. Non so, balata, infatti le ho parlato io del campionato di Serie G. Diciamo che sono d'accordo con lei, però ripeto, queste riflessioni vanno fatte in sede di Consiglio federale, quindi vedremo lì che cosa succederà e questa notizia di oggi, io guardi, sono d'accordo con lei che poi bisognerà, e questo ce l'ha detto il Presidente del Consiglio, ce l'ha detto il Ministro dello Sport e il Ministro della Salute, i prossimi giorni, forse 10-15 giorni, sono probabilmente fondamentali perché questa riapertura ha portato di nuovo la gente sulle strade, nei locali, nei negozi. Se riusciamo a superare questo test, che forse è fondamentale, allora anche noi, a mio avviso, avremo tutto il diritto, come dire, di ripartire e terminare i campionati, credo che sia anche giusto l'altra parte. Se ci sono i tempi, mi sembrava di aver capito che fino verso il 4-5 di agosto ce l'avevamo il tempo, no? Ma credo che si vada, vedo una, verso una estensione ulteriore, allora il problema è la Serie A perché la Serie A ha anche le problematiche legate alle coppe europee, però voi avete visto che la stessa UEFA ha spostato questa riunione che era fissata per il 27 di maggio al 17 giugno, quindi anche loro evidentemente stanno monitorando le condizioni sanitarie di tutto il continente europeo. Io credo che domani il Presidente federale dovrebbe proporci una estensione della stagione sportiva sino ad agosto inoltrato e credo che questa sia anche una cosa giusta perché c'erano anche altre proposte, non so se lei ricorda la proposta che fece, seppur informalmente, il Presidente Infantino che era quella addirittura di posticipare tutto al... di riprendere al mese di settembre, di fare tutto con... E io ero perfettamente d'accordo con questa proposta, mi sono sempre trovato d'accordo sul fatto che a settembre si finiva il campionato in corso e poi si iniziava il campionato nuovo, cioè per me era un elemento molto chiaro e si poteva giocare tranquillamente, forse serrando un po' le partite, sia al finale di questo campionato che all'inizio di quello nuovo. Io questa proposta la sposerei di più perché a livello sanitario dovrebbe darci maggiore garanzia, perché le dico Balata con molta serenità, io se mi trovassi in squadra un malato o due malati, sinceramente avrei un po' un problema a pensare che gli altri ragazzi possano andare avanti, che possano anche andare avanti, ma il magazziniare che mi sa mala... insomma voglio dire, detto fra me e lei, non è che il fatto che il governo possa allevare il Covid come malattia, quindi non mi mandano più in galera, mi rassereni, perché se poi ci ammaliamo tutti, ma male anch'io, non è che mi sento bene, insomma voglio dire, siccome il Covid non guarda in faccia a nessuno, quando stai male, stai veramente male, io credo che sarebbe il caso di evitarcela, insomma, e sappiamo tutti e due che in una partita di calcio, vuoi per entusiasmo, vuoi per il tipo di gioco, c'è dire che quando fai i gol ti devi salutare con il gomito, e tutto il resto della partita, scusi Balata, ci siamo, lo dico brutalmente, ci siamo sputati in faccia, insomma, perché è normale, uno soffia, corre, quindi è un respiro affannoso che manda i bacilli ben oltre il metro e mezzo, e poi ci sono dei contatti fisici reali, insomma. Io la penso come lei, anch'io l'ho detto anche quando il Presidente Infantino disse queste cose pubblicamente, mandò anche un messaggio a tanti di noi per la Santa Pasqua, che avrei ritenuto una scelta di buonsenso, quella di attendere un po' di tempo, magari cercando anche di mandare i ragazzi a casa, perché anche il fatto che siano in questo momento tutti confinati in attesa di notizie che non sono sentiti. Guardi, io ho tenuto i ragazzi in galera fino all'altro ieri, l'ho mandato a casa e sono tornati oggi oltretutto, quindi dobbiamo dargli delle risposte, anche perché poi parliamo di ragazzi, ma parliamo di uomini che hanno una famiglia, moglie, figli, che non hanno visto in certi casi da mesi, perché per esempio nel mio caso sono rimasti tutti in quarantena a Terni e le famiglie erano a Bolzano, a Milano, a Palermo, sparse per tutta l'Italia, insomma. E anche noi abbiamo dovuto gestire delle situazioni, le dico, con dei cacciatori che magari avevano la moglie che stava per partorire, quindi abbiamo trovato poi delle soluzioni, però le volevo dire, noi probabilmente, non lo dico io, non lo dice lei, lo dicono, credo i medici, gli esperti dovremmo imparare anche a convivere con questa problematica del Covid e quindi delle soluzioni vanno comunque trovate. È chiaro che è una riflessione di buonsenso quella che faceva lei, che io anche condivido, che più passa il tempo più avremo un sistema sanitario più organizzato e quindi più sicuro e più anche consapevole di quello che si deve fare, perché all'inizio, se voi ricordate, si era scatenato il panico, insomma, un po' ha dovuto veramente sacrificarsi per gli altri. Tanti medici sono morti, insomma, ricordiamo anche questo perché… e quindi andare più in là nel tempo sarebbe stato sicuramente un qualcosa che ci consentiva di organizzarci meglio, di affrontare meglio questa problematica. Adesso speriamo, insomma, anch'io sono come lei fiducioso e mi auguro che le condizioni del Paese vadano sempre a migliorare nei prossimi giorni. Ecco, questo dipenderà… Io voglio fare un'ultima domanda perché le ho rubato anche 5 minuti in più, poi la devo mandare veramente perché sennò lei fa tardi, ma l'ultima domanda è una risposta secca, lo so che è una domanda brutta e poi un'affermazione. A chi dice due gironi di serie B, che cosa risponde a lei? Allora, le ripeto, la mia opinione è che va fatta una profonda riforma del settore professionistico, quindi con una riduzione, con una maggiore sostenibilità, con una riforma anche del sistema di distribuzione delle risorse. Se vuole in due minuti le dico come sono organizzati negli altri campionati europei. Prego. Cioè noi abbiamo un sistema di distribuzione delle risorse, soprattutto tra le prime due leghe, cioè la lega di serie A e la B, il primo e il secondo livello che è assolutamente iniquo, ma sproporzionatamente iniquo rispetto a quello che è il sistema di distribuzione negli altri paesi. Partiamo dalla Spagna, 10% più 40% dei diritti, dei ricavi da marketing aggregati. Francia a 12,5%, fino ad arrivare alla Germania dove addirittura questa contribuzione arriva al 20%. Però, le ripeto, questo non ha determinato una diminuzione del fatturato della prima lega. Ha determinato un aumento. Perché? Perché anche lì ci sono dei meccanismi, se vuole le dico anche questi. Per esempio... Se lei ha tempo ce lo dica. A operare sulle... No, glielo dico perché questo è il dibattito che anche avrebbe fatto, in maniera serena. Perché se parliamo di chi vuole prendere più soldi da una parte, tirando più di qua o di là, alla fine si litiga... No, no, alla fine dobbiamo trovare una soluzione vera. Cioè, è un po' banale. Certo. Allora, per esempio, operando sul meccanismo delle promozioni e delle retrocessioni, ci sono degli studi che affermano che più c'è, ci sono promozioni e più c'è ricambio tra un campionato e l'altro, più c'è competitività, più aumenta il valore di questo campionato. Cioè, capisce? Sono tutti, voglio dire, dati di cui già disponiamo e che possono essere raccolti, valutati e adattati al sistema... Vabbè, forse è il momento di fare queste valutazioni, dato che il Covid ha portato tante cose negative, ma potrebbe portare nel mondo del calcio una riflessione complessiva... Presidente, dipende anche da lei, eh? Dipende anche da lei, come... Ma guardi... ...è il Presidente di una società di calcio. Lo dico perché, secondo me, è vostra poi la responsabilità, ma anche l'istanza deve partire soprattutto da voi. Ma se lei pensa, scusi, che in Serie C, quest'anno, gente che aveva il diritto di giocarsi i play-off, ripeto, su 27, 12 hanno detto sì, perché il voto a 16 è fatto da quattro squadre che proprio non ci pensano a play-off. Quindi, 16 è il voto, ma 12 potevano fare i play-off. Ciò vuol dire, se non sbaglio, che 15 hanno detto, io sto a casa, sto bene così. Cioè, sinceramente la cosa mi coglie impreparato, perché la risposta è o non vogliamo spendere denaro, o non abbiamo ben capito che stavamo giocando a calcio, o non lo so quale sia la risposta, cioè non riesco a capirla. Per me era normale dire i play-off si fanno, poi se si presenta una sola squadra avrà vinto una sola squadra, se si presentano in due fanno una partita, che devo dire. Vediamo se lo dice alla Federcalcio domani. Come? Vediamo se lo dice alla Federcalcio domani, dico. È l'organo che poi decide, l'organo supremo. Diciamo che la Federcalcio, spero che domani… Io però ho scritto alla Federcalcio come presidente e ho fatto scrivere dal mio avvocato in maniera semplice per dire io voglio fare i play-off, non ci inventiamo calcoli strani. Sono dispiaciuto per chi non si può presentare, però questa è la regola. Se ci sono le condizioni sanitarie, siamo qua a farlo. Anche perché mi sono permesso anche di dire, essendo la ternana finalista della Coppa Italia, se proprio si devono guardare i meriti sportivi, ripeto, non l'avevo mai detto, ma lo voglio dire in questa serie, allora la Coppa Italia, se ha un valore, diamogli un valore anche alla Coppa Italia. Non l'abbiamo ancora vinta, dobbiamo fare la finale, anzi la perderemo sicuramente, perché la andiamo a giocare contro la glorosa Juventus, quindi sicuramente la perderemo. Però di fatto è un merito sportivo maggiore, anche perché insomma troppi calcoli diventano diversi. Le do un'ultima tra virgolette chicca, diciamola così, e poi vi ringrazio e vi saluto. Lei pensi che io quest'anno ho chiesto, almeno per i turni preliminari della Coppa Italia, l'inversione dei campi? Perché secondo me alle volte vedere quelle partite dove ci sono 200 persone che guardano una grande di A con una società di B? È mortificante. È mortificante, ma sarebbe forse, forse se accadesse il contrario, cioè se giocasse la grande di A, almeno nei turni preliminari, in uno stadio di una società di B, si riempirebbe tutto, sarebbe molto bello televisivamente e sarebbe anche, insomma, darebbe anche, produrrebbe anche un miglior. Ma guardi, infatti, le ho detto prima, una domanda e un'affermazione. L'affermazione è se mai ci fosse una Serie B a 40… Non mi hanno risposto, le volevo dire, però non mi hanno risposto, quindi questa è la seconda parte qui. È rimasta lettera morta. Se mai ci fosse una Serie B a 40, facciamo però due gironi nazionali, perché il bello del calcio e l'interesse è quando una squadra lombarda, gioco con una, diciamo, della Sicilia, con una sarda, con una della Puglia, non quando c'è il girone metà Italia su, metà Italia sopra, perché questo è quello che mortifica il calcio. Pensi alla Serie C, tre gironi fatti a regione, una squadra toscana gioca sempre con i stessi quattro gatti e se non va in Serie B farà sempre un campionato interregionale, si pensano professionisti e non vedono manco il naso fuori da… Quindi io ce l'avrei tante cose da dirle, balata, comunque va bene. E quindi se per caso venisse fuori una Serie B a 40, i miei tifosi sono tutti contenti, però voglio due gironi nazionali, voglio retrocedere un'altra volta e litigare con lei sui ripescaggi. Va bene. Grazie. Saluto, balata. Grazie per il tempo che è stato con noi, enorme. Grazie. Arrivederci. Allora, io direi saltiamo la pubblicità, saltiamo tutto e vorrei entrare immediatamente, se è possibile, con Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, così continuiamo a parlare di calcio che oggi è la giornata del calcio. Prego, dalla redazione se volete darmi… Grazie. 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 Decreto rilancio, Mattarella ha firmato il provvedimento. Sì, era stato annunciato in gazzetta ufficiale. L'ha firmato adesso, Gualtieri, bonus per gli autonomi in due o tre giorni. Il testo è arrivato mentre in Parlamento prosegue il lavoro sul testo dell'altro DL, garantire la liquidità alle imprese. Il presidente Sergio Mattarella ha firmato il decreto rilancio. Il provvedimento sarà pubblicato in nottata in gazzetta ufficiale, quindi lei stanotte sta sveglio perché deve leggersi il provvedimento. A una settimana dall'ok del Consiglio dei Ministri il governo è riuscito a chiudere o a bollinare la maxi manovra da 55 miliardi con i nuovi aiuti a famiglie e imprese e le risorse, assicura in TV il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, saranno subito disponibili per gli autonomi. e i bonus arriveranno. Non rida, non rida. Facciamo entrare il resto. Stavolta sarà vero. Le dico una cosa. Stavolta sarà vero. Le dico una cosa. In Inghilterra ho degli amici che avevano delle imprese. In quattro giorni hanno avuto 50 mila sterline sui conti correnti e la cassa integrazione è arrivata a tutti in 15 giorni. Sì, sì. Un altro modo di affrontare le cose. Un altro mondo. Un altro mondo. Dalla regia ce l'abbiamo il signor Renzo Olivieri. Signor Olivieri, buonasera, ma dovrebbe accendere la telecamera. Aspetti che io sono con questi positivi. E già la voce. Ecco, perfetto. Buonasera Olivieri. Eccoci qua. Buonasera. Buonasera. La ringrazio prima di tutto di essere venuto in questa trasmissione a parlare con noi di calcio in un momento particolare e particolarmente turbolento, specialmente per il mondo del calcio. Lei, Olivieri, rappresenta, perché è presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, quindi rappresenta gli allenatori italiani. Qual è il suo punto di vista su quello che ultimamente si sente, su cose evidenti, cioè sulle cose che stanno accadendo? Che cosa pensa lei dei tre campionati professionistici italiani, del campionato dilettanti e del campionato femminile? Che so che in questo momento, se non l'ho capito male, lei allena una squadra femminile. Sì. Allora, il discorso è molto generale. Quello che penso io coincide con il pensiero della federazione, l'intendimento è quello di portare alla fine i campionati, possibilmente giocando tutte le partite che rimangono da giocare. Ove non fosse possibile, l'intendimento è quello comunque di determinare una gradatoria, quindi una classifica, quindi di scudetti, retrocessioni, promozioni, tenendo conto della prestazione sportiva, che sia la prestazione sportiva a determinare. Questa è la volontà della federazione, la volontà dell'UEFA, la volontà della FIFA. Non bisogna dimenticare che sappiamo e conosciamo le difficoltà di tante società. Sappiamo anche che tante persone guardano al nostro mondo qualche volta facendo anche così, scandalizzandosi per il fatto che noi si parla di economia. In questo mondo dove la gente ha tanti problemi, quelli del calcio parlano di economia. Noi parliamo di economia per quanto riguarda i grandi club, però parliamo di economia anche per quanto riguarda i piccoli club, per quanto riguarda tutte quelle persone che hanno stipendi e contratti di collaborazione, che sono stipendi che gli servono per vivere, perché quando noi pensiamo al mondo del calcio pensiamo ai grandi giocatori, ai grandi allenatori, non è così. Centinaia di migliaia di persone che lavorano interno al nostro mondo. Poi un'altra cosa, ma gli altri sport vanno avanti anche con tanto di quello che produce il calcio. Su questo bisogna essere chiaro. Per cui c'è un discorso sportivo, poi c'è anche un discorso economico, perché no? Perché sulle spalle chi è il nostro dirigente, quindi i dirigenti d'azienda, i presidenti, hanno sulle spalle anche i contratti e gli stipendi di tanti dipendenti e credo che in questo mondo debba fare anche valutazione di ordine economico. Certo. Senta, Olivier, lei che cosa pensa? Pare che il Comitato Tecnico Scientifico abbia detto se si riprendono gli allenamenti, anzi gli allenamenti si potranno riprendere a fine mese, se qualcuno si ammalasse all'interno del gruppo, non è più il gruppo che va in ritiro, ma soltanto i malati vanno in quarantena. Secondo lei è una scelta del Comitato Tecnico, che è un po' la scelta che hanno fatto in Germania, è una scelta secondo lei sostenibile, giusta o lei ha delle perplessità? No, è l'unica scelta possibile se si vuole ripartire, perché ripartire è con la vecchia norma che se uno risulta positivo, va in quarantena, tutta la squadra vuol dire fermare il campionato, non è da ammettersi neanche a ripartire, perché una squadra che si ferma, poi si ferma il campionato, perché le altre che fanno, poi si ferma una seconda squadra, per cui mi sembra giusta questa scelta come hanno fatto in Germania. In Germania in questo momento dopo la prima partita mi sembra che non sia successo, a parte i primi quattro casi, è successo qualche altra cosa che lei sappia? No, che io sappia no, ora bisognerà monitorare i casi nostri, perché probabilmente ce ne saranno di più di quelli che sappiamo, è una situazione eccezionale, di fronte a questa eccezionalità siamo stati tutti impreparati, per cui tutti impreparati, perché lo domandiamo, siamo costretti ad andarla a domandare ai tecnici, io se devo salvaguardare la sicurezza dei calciatori e dell'allenatore non posso prendere decisioni io, lo devo domandare ai tecnici e i tecnici ci dicono quello che fare nel rispetto di tutto quello che è. Abbiamo delle criticità, perché in ipotesi ci viene detto che ci può essere un ritorno, fine settembre, ottobre, questo non lo sappiamo. Io sono convinto però che le disposizioni date debbano passare attraverso un discorso di responsabilità personale, che cosa vuol dire? Ognuno di noi per dovere di prestatori d'opera, di lavoratori, che vuol dire? Allenatori, calciatori, arbitri, abbiamo il dovere, ma per non contagiare gli altri, di cercare di preservare la nostra salute. È vero. Il discorso tutti in quarantena, a me mi sembra una forzatura, io direi ognuno che si faccia carico della sua responsabilità. Vabbè, certamente. Senta, domani ci sarà questa riunione quindi del Consiglio federale, lei crede, le faccio delle domande a comparti, lei crede che la Serie A quindi ripartirà regolarmente con il suo campionato? Noi speriamo di sì, noi speriamo di sì, se non succede nulla di eccezionale, l'intendimento è questo, le premesse ci sono, ci sarà da vedere come ci si allena, queste sono delle particolarità, però noi sappiamo che siamo di fronte a una situazione eccezionale e non potrà essere perfetto, già il fatto che non c'è il punto è un altro calcio. E la Serie B secondo lei invece riprenderà anche la Serie B a giocare o farà soltanto play-off e play-out? Ma questo bisognerà vedere perché anche i protocolli, quando noi diciamo c'è incertezza, c'è confusione, io ne ascolto tante di queste robe, ma perché è un processo che è in evoluzione, il protocollo scritto oggi può darsi che fra dieci giorni il protocollo vada rivisto nel senso di un allentamento e speriamo che sia così, quindi potrebbe essere più facile anche per la Serie B e poi anche per la Serie C, è chiaro che dove andiamo in categorie più basse i problemi possano aumentare, questo lo sappiamo. Allora lei fa l'allenatore, lei fa l'allenatore e ha parlato del fatto che ci sono alcune squadre che possano avere dei problemi, è chiaro che in Serie C cominciano i problemi, per assurdo la Serie C è la categoria che ha il numero maggiore di problemi, per esempio la Serie D, dei dilettanti ne ha molti meno, perché è una categoria che costa quasi la metà della Serie C e quindi è una categoria diversa, pur essendo fatta da cacciatori che possono giocare anche in alcuni casi in Serie C, quindi diciamo vanno e vengono, lo sa meglio lei di me. La domanda è questa, secondo lei la riforma della Serie C quest'anno o meglio la riforma della Serie B e della Serie C, sarà fatta secondo lei quest'anno? no? no, perché non può essere fatta. nel senso? è andato via proprio da un momento male. non abbiamo sentito, non abbiamo sentito. no, le dico no perché non può essere fatta, perché noi abbiamo delle regole da rispettare, quindi quando andiamo a cambiare i format dei campionati bisogna fare per gli anni successivi e non per quest'anno qui, questo non si può fare. è possibile pensare che per il prossimo anno inizierà un anno che darà origine ai cambiamenti nell'anno 21-22? ma non è detto, questo sarà un motivo di studio da parte di tutti, che vuol dire le leghe, che vuol dire la federazione, che vuol dire le componenti tecniche anche. c'è un principio, c'è un principio che bisognerà attuare da ora in avanti che è quello della sostenibilità, dovremo fare quello che dal punto di vista economico è sostenibile perché sennò viene troppe volte, il risultato sportivo viene condizionato da discorsi economici. olivieri, c'è chi dice che il prossimo anno una serie C a 60 squadre potrebbe vedere una ventina di fallimenti? ma ora a me mi sembra eccessivo questo, io alleno in serie C femminile il Ponte d'Ela, quindi una società di piccole dimensioni diciamo, con le spese ridotte all'osso, una società che sa gestire tutto, che finisce in pari, che non ha debiti. però è indubbio che anche in quest'ultimo periodo ha perso un po' di sponsor, perché gli sponsor li perdono tutti in questo momento, è un po' di introiti, è chiaro che una qualche difficoltà economica ci sarà. L'idea qual è? In un anno di grande difficoltà, come sarà anche il prossimo, l'idea generale dell'uomo della strada, poi è questa, bisognerà tirare tutti un po' la cinghia. Ah, quindi lei dice non cambierà il campionato, bisogna tirare tutti un po' la cinghia, insomma andremo avanti, giusto? Sì, la speranza è questa, perché è con la volontà di tutti e con un po' di sacrificio da parte di tutti, soprattutto per quelle persone che lo possano fare, ripeto, chi ha stipendi che servono per fare la società a queste persone, il sacrificio credo che non gli si possa chiedere. Ulivieri, le faccio un'ultima domanda, dato che lei sta in questo mondo da molti anni, lei sa meglio di me che ci sono degli organismi che vanno a controllare i bilanci delle squadre e quindi dovrebbero garantirne, diciamo, la bontà. Secondo lei, perché poi alla fine scopriamo ogni anno che qualche squadra potrebbe anche fallire con debiti che ormai sicuramente andranno avanti da 4, 5, 10 anni, perché se no non si capirebbero debiti di 20 milioni, 30 milioni o 70 milioni addirittura. Ma i controlli vanno fatti e vengono fatti. Si tratta di stabilire i parametri. Probabilmente qualche parametro paradossalmente andrà anche un pochino allentato per dare modo e tempo alle società di prendere fiato. Mi riferisco alla Lega Pro, il campionato di 16C. Il discorso probabilmente che andremo a fare è quello di non pensare alle fideossioni, ma cercare altre forme di garanzia proprio per dare alla società la possibilità di utilizzare dei denari che altrimenti potrebbero essere immobilizzati. Noi bisogna studiare tutte le forme per agevolare le società e salvaguardare allo stesso tempo i posti di lavoro. Insomma, gli allenatori domani sono per la ripresa del campionato niente cambio di format, giusto? Per ora sì, a meno che non ci sia la necessità e a meno che non si trovino le squadre che partecipano al campionato, ma questo credo che sia impensabile. E poi il format del campionato, ma ripeto, non è che si vuole noi, non può essere cambiato. Non può essere cambiato, veramente esistono dei motivi di emergenza per cui potrebbe essere cambiato, anche dal prossimo anno. Non credo perché ci sono delle norme, le regole, insomma, e tanto che ci siamo lì, quindi si conoscono. Andare a cambiare il format dei campionati, anche se siamo in uno stato di eccezionalità. Però l'eccezionalità vuol dire che non ci sono squadre che si propongono a partecipare al campionato. Poi il prossimo anno è tutto un altro discorso, potremo vedere e valutare. Infatti questa è la cosa migliore, forse ragionare quest'anno per il prossimo anno. Ulivieri, la ringrazio, il nostro tempo purtroppo corre velocissimo ultimamente. Senta, una domanda personale, ma questa tosse, lei fuma molto? No, no, è che stamattina io ho cominciato con due ore di lezione con l'Università di Pisa. Poi ho fatto lezione all'UEFA PRO e ho fatto riunione del calcio femminile. Ho finito questa sera con tre ore di lezione al corso UEFA B. Ho finito la voce. Ulivieri, allora io la devo solo che ringraziare per essere venuta anche nella nostra trasmissione e mi scusi che lei oggi ha fatto una giornata, ha incubato la giornata, veramente una cosa mostruosa. Le auguro un buon riposo, spero che abbia finito a quest'ora. Sì, sì, sono abituato al campo e non a stare davanti al computer, per cui per me è stato più faticoso. Le auguro un buon riposo, buonanotte, buonanottate. Buonanotte, arrivederci voi, arrivederci. Grazie, grazie. Ebbene, allora, sempre andando veloce, lettore, non so cosa abbia pensato lei di queste due conversazioni che ci siamo fatti. Mondo del calcio, due mondi del calcio diversi, vedete, presidente della Lega B con una mentalità presidente dell'allenatore comunale. Certo, due ottiche differenti, sicuramente la prima è di stampo calcistico manageriale, perché indubbiamente è una questione dei ruoli, la seconda è rappresentativa del calcio, di una figura che nel calcio ha la sua importanza e quindi le ottiche necessariamente sono differenti. per cui nel secondo caso, vedete, c'è quasi un... Dice, le regole sono quelle, non si può fare nulla. nel primo caso è un background. Adesso però ci divertiamo a parlare invece con un giornalista, perché finora abbiamo parlato con due tecnici, due presidenti del mondo del calcio, visto che trasmissione oggi sembra la domenica sportiva, abbiamo parlato con la Lega B, abbiamo parlato con il presidente degli allenatori, ora parliamo con Giancarlo Padovan, che è giornalista e direttore di calciodonne.it, è interessante, ma è stato già direttore di tutto sport e quindi con lui possiamo parlare veramente di calcio a 360 gradi e gli faremo le domande più cattive perché ci darà le risposte forse più, come dire, non so se le più desiderate o quelle più vere. Piuttosto chiedo alla regia se l'abbiamo già in linea. Io ci sono, io ci sono, buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera signor Dottor Padovan. Mi vedete? Sì, tutto regolare. Perfetto, grazie. La sentiamo perfettamente, allora la persona che sta con lei è il rettore dell'università Niccolò Cusano, professor Fabio Fortuna, economista. Piacere, piacere. Buonasera, buonasera professore, buonasera. Piacere mio. Padovan, che cosa ci dice lei del mondo del calcio? Essendo un giornalista è vero che ultimamente lei dirige calciodonne.it e faremo una parentesi sul calcio femminile, ma sul calcio invece di serie A, di serie B, di serie C è dilettantistico? Beh, dico che ci sono delle profonde differenze e che la gente è abituata a fare di tutto un erbo, un fascio e un gran calderone e ci sono delle grandi differenze sia dal punto di vista contrattuale, sia dal punto di vista della qualità delle strutture, sia dal punto di vista degli emolumenti. Naturalmente io, sapendo che il presidente e anche il presidente della Ternana, non posso che sposare la frase che ha detto Adriano Galliani quando è tornato nel mondo della serie C con il suo Monza e ha detto che i presidenti della serie C sono degli eroi in confronto a quelli della serie A e della serie B perché mettono soldi, non a vuoto, ma insomma mettono soldi concreti nelle imprese calcistiche e non hanno nessun ritorno. Quindi questa è una delle prime strutture, delle gravi strutture che esistono nel mondo del calcio. Oggi, come oggi, siamo tutti sotto coronavirus e vediamo quali siano le differenze. C'è il protocollo che è stato studiato apposta per permettere alle società di serie A di riprendere, è un protocollo che già le società di serie B fanno fatica ad accettare ed è un protocollo assolutamente impossibile, soprattutto per i costi per le società di serie C. Quindi c'è bisogno di una grande riforma, ma da quando faccio il giornalista, ormai sono 40 anni, sento parlare della riforma, ma la riforma non c'è mai. Ma in 40 anni ne hanno fatto però di riforme, io ho visto serie C, serie C1, serie C2. Sì, però la grande riforma, Presidente, era la riforma della riduzione del numero delle squadre professionistiche. Oggi si dice che il numero delle, non si dice, la palistiano, che il numero delle squadre professionistiche è eccessivo e quindi bisogna studiare qualcosa di diverso. Io non so se il coronavirus porterà a una riduzione drastica delle società, di serie A no, ma di serie B chissà, di serie C credo proprio di sì. E allora forse la riforma che non hanno fatto gli uomini la farà un morbo, un virus che ci sta sconvolgendo, che sta sconvolgendo le nostre vite, ma se così fosse sarebbe effettivamente molto triste, perché gli uomini devono, cioè i dirigenti devono governare le riforme, non i casi della vita o gli incidenti di percorso. Ma Padovan, che cosa ne pensa lei del fatto che i presidenti della serie C, come dice lei, questi eroi, insomma come ha detto Gagliani, alla fine 27 presidenti avevano la possibilità di votare per fare i play-off. Soltanto 12 di quei 27 hanno votato a favore dei play-off. Quindi 15 hanno detto lasciamo perdere, non si fanno. Penso che il problema sia la sostenibilità, cioè non c'è possibilità di essere, di fare, di proseguire con il campionato e 12 presidenti, io non so quali fossero, ma evidentemente avevano le risorse per farli, altri no. E questo provoca un grande squilibrio all'interno del movimento, parlo della serie C in questo momento, ed è chiaro che se così è, bisogna prima o poi metterci le mani. Io credo che il presidente Ghirelli sia un uomo avveduto, che conosce il calcio, che lo ha praticato come dirigente ai più alti livelli e credo che sappia cosa serve fare. Ma al momento quello che ci ha detto è che la serie C non va avanti, e non va avanti perché non ci sono le risorse. Quindi c'è una grande spaccatura, se c'è già una spaccatura molto forte tra la serie A e la serie B e la serie C, ce n'è una ulteriore. Nella C, dentro la C, cioè ci sono almeno due poli, non dico opposti, ma comunque distanti, che hanno due velocità completamente diverse. Faccio però un'ultima domanda sulla serie C, poi basta parlare di serie C, voglio parlare un po' del calcio femminile perché mi interessa molto. Voglio capire, che ne pensa allora del fatto che dall'ultima riunione dei presidenti della serie C si è emerso anche il fatto che la serie C il prossimo anno potrebbe addirittura essere a 69 squadre anziché a 60. Esatto. La diminuzione del campionato diventano a 69. Ecco, io però Presidente non credo che ci siano 69 presidenti che iscrivono 69 società. Io credo che la... in teoria è così, in teoria lei ha ragione, ma io credo che il coronavirus falciglierà molte società. Non è bello, non è sano, non è quello che si vuole, ma sarà così, perché secondo il mio punto di vista tanti club non ce la faranno. Dopodiché non posso pensare bene, perché se parliamo di riduzione della serie C e invece ci ritroviamo con 69 squadre, vuol dire che non è che non abbiamo capito niente, non riusciamo a far niente di buono, ecco, non riusciamo a far niente di buono, perché aumentare la serie C è pazzesco, è qualcosa di controproducente e anche contro natura, direi, in questo momento. Contro natura? Vabbè, non lo voglio... se no parliamo ancora, perché era interessante capire contro natura. Senta, invece parliamo di una cosa diversa, calcio donne. Il calcio donne ha avuto a un certo punto un grande risalto, diciamo l'ultimo mondiale di calcio ha fatto sì che il calcio femminile diventasse un calcio guardabile, forse addirittura per certi aspetti è anche più guardabile, perché forse è un calcio più lento, non lo so, insomma un calcio diverso che però poi la gente si è messa a guardare e quindi alcune calciatrici sono diventate all'improvviso famose, importanti, insomma il calcio femminile è esploso. In Italia a che punto è questa organizzazione di calcio femminile? Ha cambiato passo quando le società professionistiche maschile come Fiorentina, Juventus, Milan, Inter, Verona hanno acquisito una squadra femminile, o l'hanno acquisita o l'hanno creata e hanno fatto una serie A competitiva in cui non c'era più il fondamentale sacrificio economico perché le società professionistiche hanno delle possibilità infinitamente superiori a quello che erano i direttanti e anche i dirigenti direttanti di prima e sono state aperte le frontiere, oggi una squadra femminile italiana può avere tutte le straniere che vuole, questo evidentemente non fa crescere il movimento ma rende il calcio più bello, più appetibile, più internazionale. È vero quello che lei ha detto, è un calcio un po' più lento perché forza e velocità sono due minus nel calcio femminile, però c'è maggiore tecnica, è chiaro che essendo più lento il controllo del gioco, il controllo della palla, i passaggi, il primo controllo sono diciamo più facili e allora c'è un calcio gradevole. Noi siamo stati fortunati ad avere una nazionale che anche grazie a un girone eliminatorio non difficile è arrivata fino ai quarti, ci ha fatto sognare, è andata a portare nelle case degli italiani quello che agli italiani era stato tolto con il mondiale maschile per il quale non ci eravamo neanche qualificati e quindi c'è stato grande entusiasmo. Ecco direttore, secondo lei il fatto che nel mondiale maschile nemmeno eravamo qualificati ha avvicinato gli italiani a guardare il calcio femminile? Cioè avevamo bisogno di azzurro, avevamo bisogno di vedere qualcosa? Sì sì, lei ha detto molto molto bene, avevamo bisogno di una suggestione, questa suggestione era un colore, l'azzurro era una nazione, noi abbiamo assistito a degli slanci di nazionalismo anche durante questo triste periodo del coronavirus, sembra quasi che stiamo combattendo una battaglia tutto insieme, c'è un po' di retorica in tutto questo naturalmente, ma c'è anche… In ogni guerra c'è una retorica, in ogni battaglia c'è un po' di retorica. Ecco, e c'è stata anche per il calcio femminile che ha preso slancio, ora anche il calcio femminile deve misurarsi… Direttore, però lei si deve spostare un po' sulla sua… Ecco, perfetto, perché piano piano mi stava sparendo completamente, perfetto. No, dicevo che adesso anche il calcio femminile deve misurarsi con questa realtà del coronavirus, perché il campionato è stato sospeso, non è stato ancora concluso e dubito che venga concluso, la Juventus è in testa e andrebbe a cogliere il suo terzo scudetto consecutivo, ha due avversarie di valore ma un po' staccate, sono a 9 punti, Milan e Fiorentina, io credo che per salvare Capra e Cavoli lo scudetto possa essere assegnato alla Juventus, oppure non venga assegnato… A quante partite mancano? Sei. 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 C'è la Lazio però… No, la Lazio è in Serie B, la Lazio è in Serie B e effettivamente è seconda, in questo momento se il campionato fosse… Ah no, come in Serie B la Lazio? Sì, è in Serie B. Se stiamo parlando di calcio femminile… Ah, femminile, sì, sì, sì. Se stiamo parlando di calcio femminile… Chiedo scusa, chiedo scusa. Sì, sì, no, dicevo… Il nostro rettore, essendo un romanista, c'era già il fumo nell'occhio quando ha sentito dire però che la Lazio era in Serie B e ha detto oddio… No, 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 dicevo che… No, 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 scusi, scusi, sono io. Sì, sì, non farebbero. Sì, non farebbero. E comunque io penso che si andrà alla fine a chiudere il campionato così, bloccando le retrocessioni e facendo salire due squadre dalla B alla A come è previsto e quindi facendo un campionato a 14 anziché a 12 che sarebbe anche un campionato più… più bello, più combattivo, insomma. Cioè il campionato di Serie A, scusi, femminile, a quante squadre può arrivare? Adesso sono 12 squadre. Adesso sono 12 squadre, ma c'è un format che è già previsto? Il format è fra due anni 14, quindi si anticiperebbe di un anno in pratica. Ah, fra due anni 14, quindi il format era voluto già da 12 e poi cresceva a 14. Certo. E c'è un arrivo anche a 18 squadre o no? Si fermerà così? Per ora no, per ora no. Però è tutto da vedere e dipenderà da come cresce. La crescita è legata al numero delle tesserate che stanno aumentando naturalmente, ma sono per ora bambine o under 18 e quindi bisogna aspettare, non dico una generazione, ma almeno 5-6 anni. Almeno 5-6 anni. Senta, faccio una domanda da neofita, ma anche da presidente di una squadra di calcio di Serie C che voleva svegliare i propri calciatori. Una squadra di Serie A femminile, giocando una partita contro una squadra di Serie C maschile, che risultato viene fuori secondo lei? No, viene fuori 10-0 per la squadra di Serie C maschile. Perché le differenze fisiche, le differenze di forza e velocità sono enormi. quindi la squadra di Serie C può anche, teoricamente, ma non è così, giocare peggio. Ma non è così perché la tecnica è comunque di alto livello anche in Serie C. Mi ha dato la stessa risposta del mio direttore sportivo, vuol dire che è vero, pensavo che il mio direttore sportivo volesse qualificare la mia squadra come una squadra forte. No, la sua squadra è forte. No, 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 non lo dica, la mia squadra è forte, guardi, la Ternana, non sbagli squadra, Ternana. No, 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 lo so, lo so bene, ma è una squadra che l'anno scorso ha concorso fino ad un certo punto per la promozione, io la sto seguendo con attenzione e anche quest'anno è sempre stata nelle zone alte, ha trovato purtroppo per la Ternana una regina che non perdeva mai, almeno fino ad un certo punto. Ma so bene che cosa lei vuole fare con la Ternana, so bene chi è il suo direttore generale, so bene le ambizioni che ha questa società e so anche che il fatto che lei si sia messo in prima persona a fare il Presidente, diversamente da com'era qualche anno fa, ha un significato sia per l'ambiente e sia per i giocatori. La ringrazio, oggi mi sono un po' gasato da solo vedendo che il risultato che abbiamo fatto quest'anno per adesso, per adesso, perché si può fare di più, comunque è il risultato migliore della Ternana negli ultimi sei anni. Ecco appunto, ecco appunto. Va bene, diciamo che potevamo fare di più, abbiamo avuto un girone di ritorno, un po' così, però sono convinto di una cosa, che le squadre di calcio sono come le aziende, vanno costruite anche piano piano in certi casi e bisogna consolidare il valore umano, cioè l'uomo è fondamentale. Sono convinto che il prossimo anno, questa Ternana di oggi sarà un attimino ritoccata, potrebbe essere una squadra interessante per fare un campionato molto interessante. La B come minimo è la vostra dimensione, come minimo la B è la vostra dimensione per la tifoseria e per il bacino d'utenza che c'è a te. Adesso lei mi vuole far piangere in diretta, va bene, meno male è finita. No, no, volevo incoraggiarla. No, ma lei ha perfettamente ragione, la Ternana come minimo è una squadra che come minimo dovrebbe stare in Serie B, poi potrebbe fare qualche puntata anche più in alto, ma come minimo in Serie B. Io purtroppo sono stato l'artefice di una retrocessione molto brutta e quindi adesso cercherò di impegnarmi per fare diciamo di più, non si sa mai chi sa. Ma lei è troppo modesto perché lei l'ha presa che era già spacciata una squadra quasi e quindi lei ha avuto tanto coraggio ed è tra quegli eroi che fanno bene al calcio e non pensano certo in questo momento al loro portafoglio perché il loro portafoglio piange perché con il calcio in Serie C ci si rimette e basta. Questo è sicuro, però voglio dire, dato che parliamo di Ternana facciamo anche una piccola parentesi su una cosa che la squadra della Ternana quest'anno ha fatto direi unica nel suo genere perché ha creato l'associazione Ternico Col Cuore, un'associazione che ad oggi può vantarsi di esistere da una settimana, ha già trovato 4-5 posti di lavoro a ragazzi ternani che lavoro non avevano, ha praticamente tutte le settimane consegnato oltre 200 pacchi viveri a famiglie bisognose, ha fatto un'operazione direi di carattere socio-sanitario con un'associazione che studia e che cura i ragazzi con autismo e quindi prenderà in cura 16 ragazzi giovani con autismo tentando di dare a questi ragazzi un futuro migliore. proprio oggi ha completato ciò che serviva per mandare una ragazza purtroppo con dei problemi a essere operata negli Stati Uniti e andiamo avanti. Quindi diciamo che la squadra della Ternana è una squadra che alla fine sul campo momentaneamente è arrivata quinta nel suo girone ma forse fuori dal campo è tra le prime. E' tra le prime, è tra le prime. Va bene, va bene. Benissimo, grazie, complimenti. No, grazie, grazie a lei, grazie a lei. Poi abbiamo anche una squadra comunque femminile che deve crescere, crescerà. Siamo partiti da molto dietro ma alla fine quella squadra vedrà che crescerà. Se non sbaglio quest'anno stava andando molto bene nel suo girone proprio, abbiamo iniziato da zero insomma, però non vuole dire una cosa stupida ma mi sembra che stava vincendo il campionato. Adesso poi non so come andrà a finire. E' così che si fa? Si parte da lontano? Sì, si parte da lontano, poi abbiamo delle ragazze locali che giocano al calcio, che gli piace, che crescano, insomma voglio dire, secondo me potremmo fare cose anche lì importanti. Stiamo facendo un settore giovanile, vabbè, comunque basta così, non parliamo della Ternana. Dottor Padovana, la ringrazio per il suo intervento e per le cose che ci ha detto senza essere presidente di nessuna associazione, avete detto delle cose belle, cattive. subito, no giusto, grazie, saluto lei, saluto il professore, il rettore dell'università e spero di essere ancora vostro ospite. Me lo auguro anch'io, la ringrazio, la ringrazio, arrivederci. Bene rettore, avevo promesso che lei avrebbe avuto le battute finali, oggi ci siamo fatti una scorpacciata di calcio, calcio di serie A, di serie B, di serie C, allenatori e calcio femminile, più calcio di così non si potrebbe, non si poteva fare. Abbiamo fatto questa giornata di pausa, perché domani invece sarà la solita giornata politico-economica e poi giovedì sarà la nostra ultima puntata, rettore, e sarà la giornata del momento di riepilogo, vedremo cosa abbiamo detto. Ma lei lo sa che ad oggi siamo arrivati a 130 ospiti, direi di livello, tra onorevoli, senatori, grandi dirigenti d'azienda. Insomma, diciamo che abbiamo visto veramente il massimo del panorama nazionale in questo periodo. Vabbè, a lei la parola per la chiusura di questa trasmissione. Forse hanno dato, a parte il mio aspetto sorridente, perché lei lo sa che ce l'ho per natura, è difficile che io non sorrida, però sono un po' stanco stasera, perché l'altra notte ho dovuto fare, a presente Don Quixote con Murini a vento, e io ho fatto un po' la stessa cosa, ho dovuto fare un documento che onestamente, le sacco, mi riferisco, ma non ne voglio parlare, come Don Quixote con Murini a vento. Allora mi viene in mente una cosa, mi è venuta in mente, che diceva un mio vecchio amico tanti anni fa, che trovo molto saggia, che nella vita non basta avere ragione, ma bisogna trovare chi te la dà. È così. Nella vita non basta avere ragione, ma bisogna trovare chi te la dà. Ora, io sul termine bisogna trovare chi te la dà potrei dire tante cose con la faccia che mi ritrovo, ma dire, non rida, non rida, stavo serio, non rida, non rida. Però voglio dire… Non ce la faccio, è troppo comico per me. Eh no, lei me la mette lì, me la alza, è chiaro che io… Però le voglio dire che siccome io sono, come dire, un ragazzo vivace, le posso dire che il suo documento è nelle mani del ministro e il ministro che è persona di buonsenso sta guardando quello che lei ha scritto. E siccome le cose che lei ha scritto sono giuste, vedremo, salutiamo tutti per stasera, arrivederci. Arrivederci, buonanotte. Buonanotte.